Vuoi assaggiare? Family Ciao! Facciamo oggi un gelato biscotto eccezionale in padella. Uova e zucchero nella ciotola. Gira con la forchetta, aggiungi la ricotta, mischia per bene, un pochino di buccia di limone, anzi un bel po', e a parte puoi setacciare il lievito per dolci insieme al mix senza glutine. Aggiungi al tuo impasto e gira gira con la forchetta finché tutto il mix non è ben assorbito. Appena è possibile passa sulla spianatoia. Questo è il popi popi di rito. Fai una bella sfoglia, 4-5 mm di spessore, taglia con un coppa pasta. Vai sulla padella calda, 5 minuti per lato, con coperchio fuoco basso. Gira, metti a raffreddare sulla griglia, riempi con il gelato che preferisci. C'è anche la versione con le gocce di cioccolato nell'impasto. Guarda che bontà! Suliturato A presto! Grazie a tutti.